20 anni di solidarietà, cooperazione e lotta alla denutrizione infantile. L'Associazione Liberato Zambia prosegue l'attività nel nord-est del paese africano nonostante la pandemia. 6% i vaccinati, oltre 210.000 i contagi, quasi 4.000 decessi riconducibili al covid. Un dramma nel dramma per lo Zambia, uno dei paesi più poveri del continente. Qui i volontari dell'Associazione proseguono la loro attività nonostante le crescenti difficoltà. In 20 anni Liberato Zambia ha portato 6 unità diagnostiche, radiologiche ed ecografiche, 4 sale operatorie, 5 laboratori analisi e 4 reparti medico-chirurgici. Abbiamo realizzato queste strutture grazie soprattutto alle apparecchiature che venivano dismesse e donate dall'azienda ospedale Riuniti di Ancona e da anche altre realtà sanitarie barchigiane. C'è poi un altro progetto nato nel 2008. La produzione di un integratore alimentare ad alto valore energetico e il progetto GRAND, il controllo e l'identificazione dei casi di malnutrizione infantile. Per questo il Comune di Ancona ha consegnato un encomio all'Associazione. Siamo orgogliosi e grati, grati perché è questa capacità di essere solidali ma in maniera concreta, in maniera davvero significativa. Potrebbe essere un'occasione sotto Natale riuscire a fare una donazione che vada o alle adozioni a distanza dei bambini o al costo per la loro nutrizione o ai tanti progetti che questa associazione sta portando avanti.